Quinta Corsa Maglio Capanne in seconda fila Sette Cooper del Sile Vipi dell'Annunziata Otto Coriolano Pella Marco Stefani Nove Cupido GSO Enrico Bellè Dieci Cairon Wink Carmine Piscuoglio Undici Sherry Antonio Di Nardo Favorita Crazy Cast numero quattro Una macchina che accelera E li lascia Callas Griff Crazy Cast Subito veloci Con largo anche Cezni Adaghi Passa Crazy Cast Che già ha il paletto Dei 1600 metri Al comando Nei confronti di Callas Griff Che concede Volentieri strada Terzo in corda E Clickstar Light Con Cezni Adaghi Che è rimasta Allo scoperto Poi allo steccato Caio Vettonio Che precede Coriolan Opel Che fa la seconda Pariglia a largo La terza pariglia esterna La va a prendere Cupido GSO Chiudendo allo steccato Cooper del Sile La leader Crazy Cast Va a completare I primi 400 metri In 32 Nei confronti Sempre di Callas Griff Cezni Adaghi Suo malgrado Deve portare avanti Il treno esterno Clickstar Light Chiuso Terzo in corda Quello che secondo le quote Sarebbe il principale Antagonista Della leader Crazy Cast Che intanto ha fatto 45.6 Per i primi 600 metri di corsa Prosegue Salda leader Sherry In quarta Pariglia esterna Quando siamo a metà gara Se ne va in 1.1 Spaccato Crazy Cast In vantaggio Callas Griff Nella sua scia Allargo Sempre Cezni Adaghi In pariglia Prosegue Coriolan Opel Anticipando Cupido GSO Il chilometro Se ne va in 1.16.7 Una frazione in 15.7 Per la curva di destra Si muove in mezzo alla pista Ora Cupido GSO Che trova l'anticipo Di Coriolan Opel Poi anche Sherry Che cerca di muoversi Dalle retrovie Intanto Crazy Cast Accelera Ha messo lì Un paletto in 14.7 1.31.4 I tre quarti di miglio Crazy Cast Che cerca la fuga Sbaglia Cupido GSO Che Lascia così In netta evidenza Crazy Cast Callas Griff Sempre in seconda posizione Clickstar Light È sempre chiuso La retta d'arrivo Per Crazy Cast Che ha guadagnato Margine È importante nei confronti Dei rivali Crazy Cast Che ha cento dal palo È padrona della situazione E regala il doppio A Massimiliano Castaldo Crazy Cast Che vince netta Nei confronti Di Clickstar Light Che buca in open stretch Callas Griff Successo di Crazy Cast Massimiliano Castaldo In sediolo E al training 1.14.7 Il raguaglio cronometrico I colori Dele Lo stesso Max Castaldo Nella triplice veste Di allenatore Guidatore E proprietario Della figlia di Philip Rock Pushkar Cam Che in perfetto Cost to cost Si impone A media chilometrica Di 1.14.7 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 Grazie a tutti